Miriam Catania è incinta Il pensato francese Quentin Cammerman aspettano il secondo figlio E l'attrice spera che sia femmina, è lei mano sul pancino o minigonna, cardigan morbido sopra la giacca di taglio asimmetrico, borsa a tracolla Non è l'abbigliamento a tradire Miriam e Catania, a spasso per Roma con il compagno Quentin Cammerman A confermare le voci che la vogliono presto madre il gesto, la mano sul pancino, accompagnato a un sorriso a fior di labbra A pochi mesi dalla nascita di Jacques, nel maggio scorso, l'attrice è nuovamente in dolce attesa Sogna una famiglia numerosa Lei vorrebbe una bambina Vengo da una famiglia di tutte donne e ho sempre desiderato avere una femmina Ha detto più volte, confessando anche di condividere il sogno di una famiglia numerosa con il nuovo compagno Il pubblicitario francese è entrato nella sua vita dopo la fine della lunga relazione con Luca Argentero Oggi fidanzato con Cristina Marino, e il suo destino è cambiato Sembra quasi la trama di una commedia romantica, già come quella, che parla proprio di destino, di cui Miriam è protagonista, nelle sale Titolo, anche senza di te Titolo, anche per la visione